Siamo con Carlo Noseda, presidente di IAB Italia. Con lei vorrei capire, prima edizione di IAB Forum in qualità di presidente, come è stata costruita questa edizione? La sedizione è stata costruita con tutto il consiglio, impegnato in prima linea per fare di questo evento un evento straordinario. È stato molto emozionante questa mattina aprire l'evento perché chiaramente c'è tutta la industria che è attenta e vuole sapere dove stiamo andando, vuole sapere quanto vale. Per cui abbiamo lavorato tantissimo, soprattutto per andare poi, ne hanno parlato poco fa, a definire il valore del mercato. Non è stata cosa facile, hanno lavorato tantissimo Michele Marzana e Paolo Portioli che sono consiglieri delegati di IAB. Hanno lavorato elaborando il dato di Nielsen e dell'osservatorio del Politecnico di Milano e la cosa positiva è che si cresce a due cifre e questo è merito delle aziende italiane che sono state capaci di interpretare questo cambiamento, di cavalcarlo e alla fine di restituire valore a tutta la industria. Perfetto, IAB Italia però ha fatto la sua parte, sostiene questa industria in pieno e questa edizione del forum lo testimonia, giusto? Il nostro ruolo è quello di diffondere in maniera sostanziale la cultura del digitale. Più gente mastica digitale più questa industria cresce, più aziende capiscono le opportunità del digitale, e questa industria cresce, per cui noi facciamo tanti eventi, questo senza ombra di dubbio è il più importante, quello che attira il pubblico maggiore. Parlavamo di numeri, ci sono 60 espositori, ci sono 55 workshop di cui c'è lista d'attesa, c'è 24 speaker italiani e internazionali, per cui c'è proprio voglia di sapere che cosa sta succedendo e noi confezioniamo dei prodotti per dare alle aziende, agli addetti ai lavori l'opportunità di capire dove va. Perfetto, cosa pensi e quale pensi sarà il bagaglio con cui i partecipanti a questo forum andranno via da questa edizione di questo? A parte conoscenze e sapere, che sarà una parte molto importante, speriamo che se ne vadano anche con tanti contatti, perché questa è un'occasione che mette insieme quasi 10.000 persone della industria, quindi c'è anche proprio un modo di confrontarsi e di scambiarsi opinioni, ma la cosa a cui tengo di più è che vorrei che fosse veramente il pezzo più pesante dello zaino, è l'entusiasmo e la voglia di fare le cose, vogliamo essere quelli che non resistono al cambiamento ma che lo cavalcano e vogliamo essere quelli che fanno del digitale anche un modo per semplificare soprattutto tanta complessità che oggi ci circonda in questo paese e che ci imbriglia, per cui se giovani studenti che magari verranno a vedere se questo è il lavoro che faranno da grandi e se aziende che stanno cercando di capire cosa fare, vorrei che uscissero di qua con il sorriso sulle labbra e con la voglia di dire che l'anno prossimo spacchiamo il mondo. Ok, grazie mille. Grazie a te, ciao.